Musica Hello guys, Roland here Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Siamo in FTB Hardcore Non mi ricordo che episodio è ma siamo abbastanza vicini al 120esimo episodio Allora, ieri non ho fatto uscire nessun video dell'hardcore perché ho fatto uscire Cosa ho fatto uscire? Ah, la Exit Che come ben saprete è la seconda serie di Minecraft del canale Quindi nel caso, beh, andate, aspettate che sto alzando il volume Non troppo alto Ok, è giusto così La seconda serie del canale Se volete andatela a vedere Appunto, in the channels Ci sta La trovata appunto La dietro Nei video precedenti La dietro nei video... Beh, bello, la dietro nei video recenti Mi piace un sacco C'è proprio lo spettacolo Della serie Garfuck Mall No, vabbè, non c'entra un cazzo Però va bene lo stesso E quindi Massimo, se non la seguite Andatela a vedere Ditemi se vi piace Se non vi piace Eccetera E invece Volevo parlarvi anche di una cosina Tanto come avete detto che mi sono morte le pecore? C'è da ragione, raga Questa è morta o non c'è? Questa è morta Com'è morta? Che cazzo di pecora era? Le altre ci stanno Le altre ci stanno tutte Le altre ci stanno tutte, sì Le altre ci sono tutte Tranne la prima Che non so che colore è E come mi è morta? Domanda da mille miliardi di euro Scusate Come sei morta? Come? Come cazzo è morta quella pecora, raga? Ma sarà il bianco? Fatemi vedere Fatemi vedere Eh, giustamente poi li ho tagliati Adesso sono tutte uguali Mannaggia a me Ma perché non mi sto mai fermo io? Mamma Babà Sì, comunque mi sa che è il bianco Perché è l'unico che non si è mosso Quasi quasi La vado a prendere Ce l'ho qui Una bianca Ma io me la porto Tom E qui Massimo ce l'abbiamo una in più Intanto ce la tengo ferma Come dire In stallo Tom E qui No Vieni qui Bella da papino Rientra qua Ho detto Rientra qua Oh signore Come sei uscita? No no Davvero Cioè proprio Minecraft Please Go home You are drunk Cioè ma proprio si Ok Facciamo così Tasto destro Via Tutta mia Bellissima Perfetto Allora Che stanno Sì Oggi alle 2 È uscito un video Di un gioco un po' particolare Che sarebbe Grid 2 Grid 2 Che gioco È un gioco di macchine È la prima volta Che faccio un gioco di macchine Sul mio canale Sul mio canale E mi piacerebbe Che voi andaste a vederlo Giusto per dirmi Come vi sembra Come non vi sembra Tanto Non c'è da cazzo da fare Ragazzi Se siete qui a guardare I miei video So che non avete molto da fare Quindi Uii Uranio Aspettate Questo ci serve Questo lo prendiamo Questo lo prendiamo E ce l'ho la Sì che ce l'ho la vacera Perché vi faccio queste domande È ovvio che ce l'ho presto Mori Mori Grazie Buona Questo è mio Questo pure è mio Qualcos'altro No Niente Vediamo qualcos'altro Tipo perché l'uranio ci serve un sacco Perché ci serve un sacco Vi starete chiedendo Perché Prima di tutto Voglio fare un altro Ultimate Hybrid Solar Panel E ci serve un sacco di uranio Non ci sono cazzi Per fare quella roba lì Ci serve proprio Uno sfracchio Un enorme sfracchio Di uranio Mentre Oh cazzo Lava Cioè come se fosse un problema Però comunque Vabbè Evitiamo E Ci serve un sacco di 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 tutto E Dobbiamo Dobbiamo riuscirlo A trovare Ragazzi Non so come prenderlo Cioè c'è un modo Per cercare l'uranio Cioè c'è un modo giusto Cioè c'è A parte scavare Oppure non lo so Cioè c'è un crafting Con la U-Meter No Non ci sta un cazzo Ma io non lo so Ma perché non facciamo Un crafting con la U-Meter Raga sarebbe così bello Sarebbe così fantastico Cioè almeno io Mi Mi metterei lì Farei tantissima U-Meter Come già sto facendo A proposito di U-Meter Andiamo a vedere Come siamo messi To Ci mettiamo sul tetto E Oh Oh Buono 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 Contando che Ho appena riaperto Minecraft L'altra volta L'ho chiuso il volo Qua ovviamente va Qua ovviamente va Che domanda subita Però se andiamo a dormire Là va meglio Uuuuh Fermi Mori Mori Morici Morici malissimo Morita No 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 Porca puttana Ma non mi deve spotere Il creeper fuori casa Però Eh Eh ma non il creeper fuori casa Andiamo a letto Andiamo a nanna Allora dobbiamo far cuocere Tutta quella roba Brothers Che ci perde una vita e mezza Una cazzo di vita e mezza Davvero Io non so Non so Non so Non so Non so Quanto tempo ci perderò Rubini Non abbiamo più niente Non abbiamo più un cazzo Non abbiamo più un cazzo Io i rubini Non so come farli Se non con la umetter E Dobbiamo farli per forza così Cioè non ci sono mazzi Non ci sono mazzi E cazzi Mazzi Tu Ma c'era tutto E poi ce li portiamo Allora scusate Dicevo Volevo andare a Dare un paio di mazzate A sti stronzi Mori No ma Cioè Ma Come ho fatto Cioè era davanti a me Ho preso Il casa Vabbè 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 mettiamo a posto Sta roba Brass Ah no il brass Il bra Mi sono dimenticato Tutto Mi sono dimenticato Dobbiamo fare Il blu elettrico All'engine Ho fatto il brass Apposto Allora Abbiamo fatto La prima parte Di video Andando a Tanto mettiamo questa roba A farsi Questa Devono decomprimersi Tipo qua dentro Yep E Dicevo Abbiamo fatto Il nostro primo La nostra prima parte Di video A fare Il commo Di nostri Adesso facciamo Il blu elettrico All'engine Engine Engine No dovrebbe essere Engine In realtà Vabbè comunque Poco importante Blu elettrico Allora Ferro 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 Questi copper file Come se face Ma non ce l'abbiamo già Copper No non ce l'abbiamo già Ci serve quella roba Il segattino di diamanti Di Di Non ce l'abbiamo qui Forse ce l'abbiamo da ste parti No No Come faccio a non averlo L'ho fatta io quella roba L'ho fatta Sì che l'ho fatta Eh sì che l'ho fatta Come faccio Come fa Dove stai Diamond draw plate Diamond draw plate Draw plate Qua non c'è nulla Eh Averlo perso morendo No Sapete com'è Sai Non posso morire in hardcore Forse sta nelle ceste Forse sta nelle ceste qua su Forse sì Forse Eccolo qui Diamond draw plate E l'altra roba del copper Non ce l'ho C'è davvero Io mi ricordo Di averne fatta In gran quantità E invece no E invece mi ricordo molto male Ok Fatemi camminare Non posso correre con questa cosa in mano Non so perché Non mi piaceva correre Vabbè Belli bug di minecraft Allora Dicevamo Questa roba No no non con la vai gira Con questo Ok Quanto dobbiamo fare Due Due No dobbiamo farne Sì No dobbiamo farne un po' di più di due Aspettate Dobbiamo farne Quattro per pezzo Quindi otto Otto di copper Sette e otto Bella Ok No ho fatto dodici Vabbè non lo stesso Lasciate stare Ehm Ho fatto questo Vi servono le cage Cage No Si scrive così Non mi ricordo Vabbè Facciamo iron 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 Ah no Iron bars Vabbè sti cazzi Fa niente E poi che ci serve Che cosa ci serve Del ferro al centro Quindi non è un problems Ferro qui Detto ferro lì Questa roba Qui così E ci facciamo fuori Questi cosini interessanti Perfetto Uno a posto Questi qua così Ci vanno A mettere Con un blu alloy Blu Alloy ingot Sei ingot Sei blu E sei anche Un po' Tum 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 Pah Blue electric Motor Oh yes Oh yeah bitches Ok Adesso ci servono Le rotelle Come cazzo Si chiamano le rotelle Non mi ricordo mai Gear 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 Ingranaggi Ingranaggi Poi prendiamo Le cobblestones Bella De papino Quanto sei bella Dott'asta 11.000 De cobblestones C'ho qua dentro Dovremmo andare a portare dall'altra parte Dovremmo andare a portare dall'altra parte Come faccio con tutta sta cobblestone minchia Vabbè comunque facciamo questa E poi facciamo due di queste Solo due? Ok questo qui Questo qui Questo qui così Questo qua poi ci serve di glass Sicuro come la morta Perché serve in tutti i motori Ecco qui Blue electrical engine E giustamente mi scrivono su facebook Aspettate che muto facebook Oh la Buona Andiamo a piazzarlo Ho mutato facebook tranquilli Era mio era mio Non andate a controllare sulla vostra notifica Non vi scrive nessuno Non è vero brothers Ovviamente Io scherzo Però mi servono i cavi Però mi servono assolutamente i cavi Dove cazzo ce li ho i cavi? Ce li ho qua i cavi Perfetto Aspettate Ma la mia domanda è un'altra Adesso Questo è un po' smontato Un po' fatto Un po' detto Se noi ce lo prendiamo un secondino Fermi tutti eh Yep Grazie Andiamo fuori Andiamo fuori Andiamo fuori di qui Perché voglio vedere come va Allora mi avete detto che questa cosa qui fa tipo un sacco di energia Tipo Tipo me ne fa talmente tanta Che Torna E diventa inutile usare qualsiasi altra tipo di roba E la cosa mi piace Perché ve lo devo dire Mi piace un sacco Che domanda è? Cioè allora No Non ho niente Giustamente Non ho una torcia di redstone In più No eh No eh No Dobbiamo andarlo a prendere Rendi Ma perché non ci pensi prima? Eh brothers Lasciate sta Lasciate sta Andiamo a piastra torcia di redstone Papapero Papapam To Oh guarda che funziona To Guarda che funziona raga Ok quanto fa salì? In tutto ciò? Aha Sato voi va più veloce in base a A Cosa? Mhm In base a cosa vai più veloce? Eh qua ci abbiamo un bel po' di energia Che sta andando Oh Guardate come spigne Oh porca puttana come spinge Ci piace un sacco E ce la facciamo a tenerlo Grande Ok allora Questo ovviamente era Un Una prova Per Per vedere quanto va Non per altro Probabilmente poi andrà anche di più a questo punto Spero e penso E' interessantissimo Chissà quanto stiamo facendo Facciamo un sacco di M Joule Comunque E la nostra energia Non è poi così tanta Cioè la nostra produzione di energia Intendo Dovremmo fare ancora molti Moltissimi solar panel Se vi ricordate Eh bro C'è un sacco di cose in mezzo Porca puttana E Abbiamo tralasciato un po' tutto Avete ragione Avete ragionissima Avete Qua vabbè Però abbiamo anche un sacco di energia Raccolta Mhm Non è questo Mi succhia tutto Finchè non è Mhm Mhm Non lo so Vabbè Però ci piace Ci piace Funziona Allora Per il tutto Vi devo chiedere due cose Uno Dobbiamo smontare questo Quindi smontiamolo Grazie Questi li teniamo qua Allora Per il momento Questo lo mettiamo così Lo mettiamo da qua Che fa così Anzi no Lo mettiamo Lo mettiamo Lo mettiamo Lo mettiamo Possiamo mettere anche qui così Proprio dritto Dritto per dritto Perfetto Così Che va poi Che va poi Con un bellissimo Redstone Energy Cell Che mi faccio da solo È un Tesseract Che mi faccio entrambi da soli Questo dobbiamo andare a mettere a posto Perché sennò Non arriva più niente L'ep Ye Questo va Questo pure sta scendendo Come una bellezza Perfetto Allora Mi dovete scrivere una cosa Uno Anzi due cose Uno se il Blue Electrical Engine Esplode Perché questo dobbiamo saperlo Due Se non esplode Se posso lasciarlo tipo acceso Se secondo voi Mi consuma tutta l'energia qua Se funziona Se non funziona E un'altra cosa Avete detto che Secondo voi I solar panel Non funzionano Perché questa roba qui Viene cantata come Hitbox E questi non vanno Potrebbe essere Quindi Se qualcuno di voi lo sa Visto che questa è un enorme hitbox Probabilmente davvero non vanno Fatemelo sapere nei commenti Qua sotto Che io provvedo Sposto tutto Perché sennò È tutta energia buttata Ed è un peccato Buttarla ovviamente Ce l'abbiamo là Perché dobbiamo buttarla Quindi noi ci vediamo Nel prossimo video Lasciate un mi piace Un commentino Intanto la roba Si sarà cotta Spero E niente Enjoy Bye 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 Ciao 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 Grazie a tutti